Una buona domenica, una buona domenica 6 ottobre, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro e vostro minuto di vino su Paviono TV Lombardia, l'hai 24, grazie per l'affetto con cui mi seguite anche sul blog 45esimoparallero.net dedicato all'Italia che sta in un calice e in un piatto. Oggi non posso non dedicare questo appuntamento con il nostro e vostro minuto di vino a 50 sfumature di Pinot Noir, quinta edizione, una bellissima manifestazione che da ieri, sabato 5 ottobre, porta a Voghera, 45 minuti da Milano, tanti produttori di Pinot Noir, il Pinot Nero, il vitigno più internazionale che esista, con tante declinazioni di vini in degustazione, tante declinazioni di vini che arrivano dall'oltre Popavese e dal resto d'Italia e ci sono anche alcuni ospiti internazionali. Ieri una giornata di assaggi, è un evento di degustazione diffusa nel centro storico di una città bellissima come Voghera, che è anche la mia città, di cui sono molto orgoglioso, con le sue chiese, le sue piazze, la sua via Emilia, il suo centro storico e attorno a Voghera, le colline meravigliose da cui nasce una grande enologia di qualità, proprio nel segno del Pinot Nero che è l'emblema dell'alta gamma anche in oltre Popavese. Ieri un evento importante legato al vino e alla manifestazione al teatro Valentino Garavani di Voghera, quindi il vino ha diciamo duettato con la cultura grandi artisti sul palco e anche una narrazione del Pinot Nero nella storia e oggi domenica 6 ottobre fino alle 19 il gran finale Pop, mentre il gran finale Top arriverà domani con gli eventi legati al B2B, quindi i produttori e espositori incontreranno i professionisti dell'Oreca, hotel, ristoranti e catering per una grande opera di valorizzazione. Tutte le informazioni sul sito 50 sfumature di Pinot Noir.it, un evento che è diventato una tradizione e un evento anche che ha insegnato per merito di Carlo Pietrasanta, di Lucillo Ortani, del comune di Voghera, di Regione Lombardia, che ci hanno creduto come il vino possa diventare un grande driver di marketing territoriale, anche turistico, quindi un bel segnale, complimenti agli organizzatori e un caro saluto a tutti gli espositori e al pubblico che partecipa, tra cui molti nostri ascoltatori. Buoni assaggi! Grazie a tutti!